Ciao ragazzi, sono Marco, ho 20 anni e ho venuto a Napoli e sono un perito tecnico-industriale Voglio raccontarvi la mia avventura a Londra dove ormai vivo da due mesi Ho deciso di trasferirmi in Inghilterra visto che in Italia le cose non vanno bene Niente lavoro e niente prospettiva di crescita Ma io ce la voglio fare All'inizio volevo essere autonoma e quindi avevo pensato di trovare una stanza su Gumtree o su Spanel Avevo visto molte foto con prezzi convenienti ma contattando più di una persona ho capito che si trattava di una truffa Leggendo su internet le varie recensioni sono arrivato all'in-law-to-way che mi ha aiutato sia nella ricerca della casa e sia nella ricerca del lavoro e quindi sono partito con l'alloggio già freddo Ho preferito la zona 3 perché me ne hanno parlato molto bene ed infatti il quartiere è molto bello Ora mi trovo a Waltham Store dove c'è una scuola di inglese gratuita alla quale mi sono iscritto e se tutto va bene l'anno prossimo mi iscrivo anche all'università qui lo Stato sovvenziona totalmente chi ha voglia di studiare L'amuro part-time come cameriere all'ottimo arena In pratica è quella struttura gigantesca dove fanno i concerti più importanti del mondo Figo eh? Questo lavoro l'ho trovato grazie ai ragazzi di Living London Way che in meno di 10 giorni sono riusciti davvero ad inviare un sacco di offerte interessanti Questi ragazzi sono davvero in gamba e sono disponibili al 100% Se dovessi consigliare Living London Way ad un amico lo farei assolutissima mezza ad occhi giusti Ciao! 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 Ciao!